Si va avanti sulle indagini dei preti gay che ha coinvolto le chiese di Pizzo Falcone e Pozzuoli. Mentre a Napoli il parroco finito al centro della inchiesta è stato sospeso, a Pozzuoli il vescovo Pascarella ha inviato il carteggio alla magistratura. In questo caso le indagini saranno molto più delicate, visto che si parla anche di minori. Da oggi saranno ascoltati i primi testimoni. Si tratterà anche di esponenti del mondo ecclesiastico, ma contemporaneamente in procura arriverà anche il dossier realizzato dall'associazione METER, fondata da Don Fortunato di Noto, un sacerdote impegnato da più di due decenni alla lotta contro la pedofilia. A consegnare il fascicolo in procura è stato un esponente della sede beneventana dell'associazione. Nel fascicolo si farebbe un nome di un sacerdote della diocesi di Pozzuoli che sarebbe però responsabile di una parrocchia napoletana, un ecclesiastico che a suo tempo non sarebbe stato ammesso al seminario a Napoli, ma sarebbe poi diventato sacerdote in una diversa diocesi, un prete che viene descritto dai suoi parrocchiani come un'ottima persona che avrebbe dato un nuovo impulso a una parrocchia in difficoltà perché uno dei precedenti parroci era stato coinvolto in uno scandalo a sfondo sessuale. E quindi, dopo la decisione del cardinale Sepe per il prete di Pizzo Falcone, anche il vescovo Pascarella sta valutando la situazione prima di prendere un provvedimento e passare tutto al tribunale ecclesiastico.